E per queste nostre rubriche di solidarietà siamo ancora una volta con la dottoressa Rossi. Buongiorno. Buongiorno. Ah, pensate, no io me lo ricordavo il nome, mi facevi vedere. No, io ho visto che è il cartellino perché... Vedete, lei è una dottoressa della USL, quindi già hanno tanto lavoro, però nel tempo libero lo impiega per questa associazione. Sì. Riparliamone un attimo perché poi la prossima settimana avremo un'intervista col governatore. Sì, l'associazione Tecla Onlus si sta occupando di questo progetto della costruzione della casa famiglia per i bambini ciechi di Kabbalah, che è la capitale del distretto di Coina Duco della Sierra Leone. E siamo a buon punto, è una cosa bellissima perché non lavoriamo solo noi, ci sono tante altre associazioni, anche quelle di Milano, e insieme a loro forse riusciremo a chiudere il progetto entro dicembre. La Sierra Leone, parliamo dell'angolo più povero della terra. Purtroppo la Sierra Leone ha i primati brutti, i più particolari di tutto il mondo. Infatti ha il più alto indice di disoccupazione, ha il più alto indice di mortalità, il più alto indice di analfabetismo. E nonostante che è un paese molto ricco, perché purtroppo ci sono tante multinazionali stranieri che lo sfruttano perché ci sono diamanti, c'è oro, c'è bauxite, purtroppo è un paese che ancora non ha il governo della sua situazione e di conseguenza queste discrepanze di grossa povertà, dove non c'è acqua, dove non c'è luce, con un sottosuolo molto ricco. Ci sono degli avvenimenti importanti che accadranno la prossima settimana ad Arezzo, che ci spiegherà la dottoressa Rossi. Cosa succede? Sì, abbiamo l'onore di avere qui il governatore del distretto di Coenaduco della Sierra Leone, appunto Peter Bayuku Connette, che sarà a nostra disposizione, per cui abbiamo organizzato in questo momento due eventi. Il primo evento è venerdì 9 luglio alle 21 all'Hotel Continentale, dove il governatore risponderà a tutte le domande della popolazione interessata per conoscere meglio questa realtà della Sierra Leone. Poi il giorno dopo, che è sabato 10 luglio, alle 9 e mezzo, abbiamo l'accoglienza e il saluto ufficiale delle istituzioni a livello del Consiglio Comunale. Tra l'altro il governatore parla italiano perché è di cittadinanza, è anche un cittadino italiano, so. Perfetto, infatti è un cittadino italiano perché lui ha studiato in Italia e si è sposato con un insegnante del liceo di Milano. Di conseguenza parla benissimo italiano, non avremo sicuramente difficoltà di comunicazione e sarà molto bello poter conoscere la realtà dalle parole della persona che vive in quella situazione costantemente perché lui ha avuto il coraggio e ha sacrificato la sua vita privata, perché la moglie vive in Italia, ha sacrificato la sua vita privata per aiutare la sua gente, la sua popolazione. E ovviamente ci risentiremo per i risultati di questi incontri. Non mancateli e soprattutto diamo una mano a chi ha più bisogno di noi. Grazie. Grazie.